1976. Base delle forze aerei sovietiche. Un pilota russo dell'URSS ha i comandi di un MiG-25 e cambio rotta, aterrando in Akodate, Giappone. Il suo nome era Viktor Ivanovich Belenko. Disertò permettendo così per la prima volta agli esperti occidentali di scoprire le tecnologie sovietiche. In seguito a questi avvenimenti, l'allora direttore della CIA, sotto esperto consiglio dell'ex paracadutista del nono reggimento Kolmoskin, Sergio Sulla, fece esaminare il velivolo in seguito chiamato Foxbat. Nel ritrovamento di una testata nucleare al suo interno, Il 6 settembre, gli Stati Uniti d'America decisero quindi di indire l'operazione morte, inviando in territorio nemico a Verdansk il veterano di guerra, Sergio Sulla. Sommigil Granana Uffa Uffa Grazie a tutti.